Degenera in scontri la protesta di un gruppo di lavoratori allo stabilimento Ikea di Piacenza, nel nord Italia. I facchini di un consorzio che lavora per il gruppo svedese da settimane chiedono migliori condizioni di lavoro. Hanno cercato di impedire l'ingresso ai colleghi nello stabilimento e sono stati caricati dalla polizia. 12 feriti.